Salve a tutti ragazzi, benvenuti ma soprattutto bentornati su Fasi Channel. Nel video di oggi finalmente vi vado a parlare nuovamente di un prodotto Sony che torna qui sul canale con un nuovissimo prodotto, un nuovo speaker Bluetooth, l'XE200. Ma bene, parlo subito dopo la sigla. Bye! Salve a tutti ragazzi Salve a tutti ragazzi Salve a tutti ragazzi Salve a tutti ragazzi Salve a tutti Salve a tutti Salve a tutti ragazzi 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 giorni anche outdoor hanno una significativa differenza vi faccio risentire un attimo l'audio con questo e poi passo l'audio a quest'altro ok ragazzi penso che possa bastare e penso che abbiate capito la differenza dell'audio che passa tra questi due dispositivi l'uno la metà dell'altro dove questo nonostante sia la meta di questo ha un audio nettamente superiore con questo come questo possono essere linkati insieme ad altri prodotti uguali quindi se ho questa cassa e ho un amico che ne ha un altro io stesso ne ho un'altra posso metterla in stereo ovviamente lì discorso cambia però significa che dobbiamo affrontare il doppio della spesa abbiamo dove avere due dispositivi per avere comunque un audio più significativo così come è possibile farlo anche con l'ultime tars qui con la wonder boom ma di questa non mi soffermo particolarmente perché anche di questo ho fatto un video dedicato se non l'avete visto vi consiglio andare a vedere perché ne vale la pena vi faccio vedere anche come l'audio all'aperto a grande distanza in modo tale che possiate capire realmente la differenza tra un audio consistente e uno un po più scarso quindi comunque ve lo lascio poi linkato qua sopra se non l'avete vista ancora ovviamente mi dispiace per sony perché è un brand al quale tengo particolarmente e purtroppo anche se devo parlare male sul canale di un brand che mi sta a cuore come sapete io lo faccio sempre nella massima trasparenza senza problemi perché prodotto quindi non è stata all'altezza del proprio delle mie aspettative e quindi magari prima che possiate acquistarlo ho deciso di portarlo qui sul canale in modo tale che possiate decidere stesso voi se è un tipo di prodotto che può fare al casa vostro oppure no in tutti i casi io ve lo lascio linkato in descrizione così come anche di questo prodottino qui se avete dubbi perplessità o volete un confronto tra diversi dispositivi anche se non li ho portati sul canale magari comunque voi sapete che io vado sempre anche nelle storie fisici a provare di dispositivi in modo tale da poter essere sempre aggiornato e quindi darvi consigli a seconda di quelle che ovviamente sono le vostre necessità il vostro budget di spesa e e così via quindi ragazzi mi auguro questo video vi sia piaciuto vi sia servito qualora così fosse invito a lasciarmi la che iscrivete al canale se non avete fatto ancora e attivare la campanellina per essere sempre aggiornati da fase tutto e noi ci vediamo molto molto presto ciao ciao